E' ancora giallo sul boato sotterraneo a squarciare la giornata di ieri tra mezzogiorno e mezzo e luna in piazza Vico a Chieti. In particolare tanta apprezzione per l'edicola sul posto, ma nella stessa ora il rumore è stato sentito anche dal titolare di un pub dall'altra parte del corso e da una famiglia della zona. Il sindaco di Chieti, Ferrara, è intervenuto immediatamente assieme ai vigili del fuoco e agli speleologi che sono scesi nei sotterranei e negli ipogei non riscontrando a tuttora anomalie. E c'erano dei vigili del fuoco in piazza Giambattista Vico chiamati dai proprietari dell'edicola della piazza stessa che avevano sentito pochi minuti prima un boato sotterraneo, così lo hanno definito, e un tremore della struttura dell'edicola. Lì per lì ho chiamato dello Speleo Club che si sono immediatamente attivati nell'arco di mezz'ora, nell'ipotesi che nell'ipogei fosse accaduto qualcosa, si sono subito attivati e sono entrati nell'ipogei da via Gizzi trovando tutto perfettamente nella norma. Il passo successivo è stato entrare nel tunnel dei servizi dalla botola di fronte alla Banca d'Italia, lungo Corso Marruccino, dove i vigili del fuoco e gli uomini dello Speleo Club hanno percorso più di 400 metri fino ad arrivare all'angolo con via Spavenda e trovando tutto perfettamente nella norma. Successivamente ancora sono stati controllati gli spazi ipogei della chiesa di San Domenico, della Camera di Commercio e con me personalmente anche tutto l'edificio del Giambattista Vico, tutto nella norma e quindi è rimasto ancora un mistero. Il sindaco parla poi di tre testimonianze diverse che descrivono lo stesso boato. Stamani in città si parla del misterioso rumore tra chi è preoccupato e chi sdrammatizza e si è ancora nel campo delle ipotesi. Un rappresentante dello Speleo Club avanzava anche l'ipotesi di qualche piccolo movimento di faglia ad una profondità di 300-400 metri che non raggiunge le caratteristiche e la dignità di un terremoto ma di un assestamento che abbia potuto provocare questo fenomeno. La piazza non è interdetta ai cittadini poiché prosegue Ferrara. Sia i Vigili del Fuoco che gli uomini dello Speleo Club mi hanno detto che se si fosse avuto un cedimento delle volte di qualche ipogeo i risultati macroscopici al di sopra della strada si sarebbero visti. Io quello che posso dire per tranquillizzare i cittadini è che non ci staremo con le mani in mano in attesa di un eventuale altro fenomeno ma cercheremo di capire da cosa sia potuto accadere.